Sono circa 10.000 gli imprenditori italiani, non solo sardi, che pagano fornitori e dipendenti in Sardex, una delle monete complementari che è più cresciuta nell'ultimo anno in termini di iscritti e valore degli scambi. Sardex è una PMI innovativa che attraverso la piattaforma Sardex Pay consente alle imprese di scambiarsi beni e servizi su una piattaforma online tramite una moneta complementare e grazie a un conto digitale dove un Sardex è uguale a un euro. Ne abbiamo parlato con Gabriele Littera, co-founder e network manager di Sardex Pay. Cerchiamo di far sì che le imprese che partecipano possano accedere al credito Sardex senza interessi, senza commissioni. Lo facciamo arrivando dove spesso il credito tradizionale non arriva e aiutando il sistema delle imprese ad acquisire nuovi clienti, a svilupparsi, a crescere facendo rete, facendo sistema. Nel futuro di Sardex adesso c'è anche la quotazione in borsa. È ragionevole pensare che nell'arco di qualche anno si possa andare verso un'ipotesi di quotazione. In questo momento ci stiamo allenando a una quotazione. Abbiamo avviato una campagna di equity crowdfunding. A oggi ci sono oltre 120 sottoscrittori della nostra campagna e ci auguriamo nell'arco del prossimo mese di poter accogliere diverse altre centinaia di nuovi sottoscrittori che acquistano un pezzetto di questo nostro progetto.